Siamo a fare scout location per il film siciliano e siamo nei vicoli di Gualtieri. Guardate che bello. Questa faccia da qua anche di quel balcone, come se fosse suo, però a ciò ha dovuto usare questi casi. Minchia, questa scalinatina. Minchia, queste cose io non le conosco. Cioè, le so dove arrivano, ma è assurdo però. Questi posti che i sfocali sono forti. Ci dobbiamo portare una scopa sempre da presso per scopare per terra. Qua è bello pure. Eh, ma tu vissi che fene ero? C'è un occhio a nodo. Voglio dare meglio sto consiglio però. Ho fatto portare con zaino. Minchia, sto morendo. Consiglio? Non vedi che sono partito senza niente. Dici che di zaino. Oh, occhio sempre alle scritte nei muri. Che sono bastarde, vedi là. Ah, ha dei numerici vicentici, antichi. Antichi. Vicentici antichi? Così sono. Ah, poi ho stampato. Quindi queste dovremmo fare tipo una cosa, una placchetta stampata. Qua? Minchia, ma ci sono posti belli. Di chi sono i nostri posti? Cioè qua si può usare quelle di finire. L'interno tipo. Questa è una pocheria. No qua, qua è sdurupato. Vai, scendiamo. Vediamo che poi saliamo di nuovo. Ecco qua, questo lo conoscevo. Questo posto lo conoscevo. Questa scala si può sfruttare. Eh, beh. Lì. Eh, io ne so, andiamo, non pare. Che, che... Secondo me niente. Tutto, tutto così è il posto. Questi abberi qua. O sei scemo? Sei cretino? O sei scemo? Ho paura. Ho paura. Non ti buttare, no? Ho paura. Ci sono mazzoletti usati di schifo. Scalinatina da usare. Da pulire, tutta. Qua è il Carmine. Questa mandagliela subito a Federico. Devi dire, conosci questa casa? È al Carmine dove è la chiesa. Bello questo piccolo. È questo vero? Tutta questa salita. Vabbè, vabbè, vabbè. Che campanile. Figo, questo. Tutto questo pezzo è figo. Si può usare anche qua. Sì, sì. Che pergolino. Ah, bello, bello, compare. Qua se quando esce così forte. Non arrivo in questa maniera. I cavi, boh. Questo mistero. Vabbè, i cavi c'erano. Dovemmo dire date, compare. No, bello. Siamo più flessibili. Certo, ma la date non si dicono. È tra gli anni 50 e gli anni 60. No, nemmeno fai i 5 anni. Calvare. Calvare. Raviamo. Che cazzo fare? Cosa è figlio? Mi sta lavorando, vergogna. Pazzo, mi raffa. Vado a bilinare quella casa. Con gli aranciari. anzi mandarini cinesi i cina mandaraina i cina i mandarini mi sono perso di poco non mi rendo conto di dove siamo ah ok se scala è buona la porta nuova vediamo se non si può scendere penso privato per ora siamo non imponi un genere musicale lasci che ho i mod io sono io che comando i mod ora c'è il mod di festa che è baciata bellino il caraccio ora andiamo in quartieri bassa e poi andiamo a misericordia un giorno ce la siamo fatta tutta minchia è la gran polpetta ora io lo dico agli altri mamma mia abbiamo sfera del disastro no ma qua era no era no perché si questo intendo io meno male che non l'abbiamo fatto qua a sto punto noi avevamo l'impalcatura vedi signore vedete proprio guarda speriamo prima quando una cosa è no deve essere no quando una cosa è sì e sì ma infatti c'è stata tranquillo comunque non è possibile non si va capito se per noi eravamo più incerti l'abbiamo fatto per noi veramente e ripercorriamo il ponte dove abbiamo girato Nemo ah che vi ricordi i piedi nudi sull'asfalto le capiglie grosse un giorno quando faranno il museo del cinema o coltieri dedicato a noi diranno qua hanno girato questo qua hanno girato quello tutto quale si è prezioso qui era buono se no mi metteranno sta merda ora tu mi devi spiegare uno scorcio cuponi e io devo spiegare in uno scorcio bello mi mettono sta merda per le cose dei morti ma tu non è bello allora lo dico il coso una piacetta vieni proprio qua come mi faccia guarda che bel vico sta facendo mappare sei ore lì vieni che bo vediamo che merda questo è da sfruttare tutto ricordiamoci io li si sta a casa giornate sane per non venire da noi cane 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 sempre sono letto questo cane mi fa tenerezza come il signorino e quanto è il giro ma te voi ditemi allora Federico che passeggiata è stata mi fa qualcuno mi vogliono ci vediamo mi ha fatto finicare a terra bene le scappole compagni che dobbiamo fare adesso andiamo c'è notte e 10 ancora una stagione andiamo all'ultima l'ultima è piaciuto questo giardino what color is it un violet oh caffè guarda mi mania tutte le cose la lancia mi viene dall'altro lato è un gioco la pasta in fagioli non parla bastardo Federico dammi sta cosa ti spacco i denti colpevole facciate cose del colpevole oh ma sei pazzo Federico se questo raggi è buono me lo farino io voglio voglio tutta la campagna e niente che rompere i coglioni fate sebagli perché me ne vogliono fatti gli sconti me ne facciamo ciao Federico ci andiamo buona serata grazie e fanno andare a casa poi di nuovo buonissimo buono così bello poi ti aspetto guarda sicuramente era buonissimo voglio andare a casa mi voglio andare a casa ciao Federico ah no era acido era troppo agra ah era un misto tra un arancio e un limone tipo un mandarancio al limone un mandarone lo conosco io velocissimo velocissimo c'è una fame di giù maggiore di tipo 6 pitoni 7 pitoni mangiare 4 pitoni una pitone come se ammazzare la vita fosse una cosa da niente perché gli animali hanno la coda per questo melma il fogno come è ti sono la fogno e tu sei la discarica compagno il fogno Mattia la prima già la seconda non ho capito niente di quello che hai detto non ho capito niente di quello che hai detto assa raffa bici shit hey assol 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 uuuh what the fuck you doing man fermo uuuh uuuh what the fuck you doing man street street little street yeah let me sing uuuh 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 uuuuh uuuh 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 Ust uuuh uuuh uuh uuuh uuh 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 friiga che cazzo federico serimamente ha sempre nel suo team ovvero di medica e melo cambria ma lui non sa in gonso deva di quanto posso rompere i coglioni per esempio oggi è capitato che io ero in studio operativo dalle otto e mezza dopo che lavoro loro che dormono infatti manca benzina della macchina dopo cinque minuti a riuscurrere con un vento e mi scantai qui per il nostro casting per il nostro casting